E siamo qui in compagnia, ancora qui in compagnia adesso di un grande grande artista ed ecco a voi Ciro Rigione, ciao! Ciao, tutto bene, tutto bene. Tutto bene? Grazie a Dio, ah il sole, meraviglioso. Com'è l'atmosfera di Cantiamo Napoli? È bellissimo, cioè bisognerebbe stare su una sedia sdraiati, invece noi naturalmente il lavoro ci porta sempre ad essere in velocità massima, diciamo così, però naturalmente siamo soddisfacenti anche guardando la gente che poi si rilassa e ci si diverte vedendoci nell'esibizione. Con che brano ci allievi adesso? Questo è un singolo che è uscito, è un pezzo che ho partecipato al, come si chiama, Partenope Festival, sarebbe Festival Partenope e quindi è una canzone che sarà in una compilation, si chiama Marie Marie, un pezzo che parla della nostra amata e amatissima sempre Napoli, naturalmente. Amatissima, amatissima, mi associo, mi associo. Vuoi fare qualche saluto? Ma naturalmente saluto i miei fan che assiduamente dopo tanti anni seguono sempre le mie canzoni, ascoltano con attenzione, e sono contenti e fieri di, diciamo, aspettare i dischi miei poi anno dopo anno, aspettare le news, le canzoni nuove. Quindi è una novità, loro sono contenti e ascoltano una cosa diversa perché qua si permettono di dire il disco nuovo quando lo fai dopo appena un mese che è uscito. Perché loro già le conoscono a memoria. Un mese lo massacrano il disco e già vorrebbero un disco nuovo, invece io ne faccio uno ogni due anni. Come è giusto che sia. E quindi salutiamo tutte le persone che ci seguono perché noi siamo quelli di Cantiamo Napoli. E aspettatevi sempre qualche novità. Ci sarà sempre. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Buonanotte Marie.